Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Nemia, capitolo 8, versetto 10. Il sole della gioia. La gioia del Signore non è semplice emozione, ma qualcosa di più grande, prezioso e duraturo. Questa gioia nasce nel cuore quando si permette al Signore Gesù di entrarvi. La gioia del Signore è la forza di coloro nei quali matura il frutto dello Spirito, di colui che è salvato e vive in comunione con Dio. La gioia del Signore è forza, perché proviene dalla parola di Dio, che fortifica il credente. La si realizza restando alla presenza di Dio. Ci sono gioia e sazietà in Tua presenza. Salmo 16, versetto 11. Quando la si sperimenta, la vita è più serena e le prove diventano più sostenibili. Anche se ci sono tempeste da affrontare e lacrime da versare, Nel cuore del credente ardono i carboni della gioia, benché a volte siano sotto la cenere della prova. Al di là delle nubi nere della prova, nel cielo del credente splende sempre il sole della gioia del Signore. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Salmo 37, versetto 4.